Se avessi la possibilità magicamente di cambiare le cose nel mondo, conoscendo quanto sia difficile per le persone cambiare le loro abitudini, inizierei con il fornire loro un ambiente diverso, un ambiente nella loro casa, nel loro circondario, nel loro quartiere, nella loro città, basato su una qualità della vita molto più sostenibile. A questo punto le nuove abitudini potrebbero essere indotte dall'esterno e facilitare le persone nel coltivare un migliore stato d'animo, quindi una natura più presente nello stile di vita nostro. E poi essendo un esperto, un praticante, un maestro di feng shui, soprattutto cercherei di fare in modo che questo metodo di cura dell'ambiente sia insegnato e praticato ovunque nel mondo, nelle case di ciascuno, nelle città, nei paesi. Grazie. Grazie.